All'inizio del 2020 scoppia un'epidemia, scoppia l'epidemia del coronavirus, Covid-19, chiamiamolo come vogliamo, Covid-19. Il coronavirus è una famiglia piuttosto nutrita, piuttosto numerosa di virus. Per esempio, molti dei virus che sono responsabili del raffreddore sono dei coronavirus. Influenze sono dei coronavirus, quindi ce ne sono veramente tantissimi. Molti coronavirus sono di fatto innocui. Noi conviviamo con miliardi di virus diversi. Noi non abbiamo nemmeno idea di quanti tipi di virus esistono, perché non li abbiamo mai individuati tutti, anche perché poi sono relativamente poco interessanti. Non ci fanno niente. Noi ci conviviamo e basta. Ma stessa cosa succede anche per i batteri, che sono molti meno dei virus, ma sono tanti anche loro. Parliamo almeno di molti milioni di batteri e di molti miliardi di virus. Comunque, queste sono illazioni, perché nessuno li ha mai realmente contati. Quindi noi conviviamo con questi virus e conviviamo anche con un sacco di coronavirus. Improvvisamente si vede che questo coronavirus particolare 19 provocherebbe delle polmoniti, delle polmoniti interstiziali. Esistono già dei coronavirus che provocano dei danni polmonari. Però, tutto sommato, non sembrerebbe qualche cosa di particolarmente terribile. Noi abbiamo cominciato ad averne notizie ufficiali verso febbraio-marzo del 2020, ma in realtà erano diversi mesi che circolavano queste polmonite. Io stesso, a ottobre 2019, ho avuto un caso, proprio di una nostra collega, di questa polmonite strana che non era stata diagnosticata in maniera corretta. O perlomeno non si era ben capito di che cosa si trattasse. Poi a un certo punto si dice, ma questo è un virus che è scarsamente patogeno, con cui conviviamo tranquillamente. Addirittura si dice, viene detto per la magica televisione, non arriverà mai in Italia, quando in Italia era già arrivato almeno da 4-5 mesi. Però l'informazione che arriva è questa. E però, a un certo punto, ci si comincia ad ammalare. Ci si comincia ad ammalare e ci si comincia ad accorgere che questa malattia dava delle difficoltà respiratorie. Difficoltà respiratorie anche pesanti, molto gravi. Che cosa si fa allora? Si comincia a somministrare dell'aria o dell'ossigeno comunque a questi pazienti. E questi pazienti morivano, non guarivano. Perché morivano? Morivano semplicemente perché si era totalmente sbagliato all'approccio. È stato un errore clamoroso che purtroppo continua ancora. Questo virus, che esiste probabilmente, anche se, occorre dirlo, nessuno lo ha mai isolato. Sono stati isolati degli spezzoni di RNA, ma nessuno ha mai isolato il virus. Quindi, facciamo conto che esista? Esisterà. Però nessuno l'ha mai visto. Allora, mettiamo dell'ossigeno a queste persone e queste persone non guariscono. Oppure continuano con queste difficoltà respiratorie, o se guariscono, guariscono con molta difficoltà. Ma perché questo? Perché non si trattava di una polmonite come era stata diagnosticata, ma si trattava di una tromboembolia polmonare, che è una cosa totalmente diversa, totalmente. Allora, qui bisogna spiegare le due cose. La polmonite che cos'è? Lo dice la parola stessa. Tutte le parole che finiscono in "-ite", riferite alle malattie, non alle cose, la dinamite non c'entra. Quando finiscono per "-ite", significano una infiammazione, uno stato acuto di infiammazione. Quindi polmonite, infiammazione acuta dei polmoni, tonsillite, delle tonsille, appendicite, dell'appendice ileocecale, eccetera. Bene. In realtà non c'era una infiammazione reale del polmone. O se c'era, era una cosa di poca importanza. Quello che stava succedendo era che il sangue non arrivava più ai polmoni. Non arrivava più ai polmoni semplicemente perché nel circolo venoso si formavano dei trombi, cioè dei coaguli di sangue. E perché si formavano i coaguli di sangue? Perché probabilmente questo virus era trombogenico, è trombogenico, cioè in sé provoca la formazione di questi trombi. È possibile, non lo sappiamo, ma è possibile. Ma c'era un altro problema. Se noi andiamo a osservare le zone in cui la malattia si è conclamata, vediamo che si tratta esattamente delle zone di maggiore inquinamento in Italia. Bergamo, Brescia. A Brescia c'è un inceneritore enorme, più di 800 mila tonnellate di rifiuti vengono inceneriti tutti gli anni, quindi con formazioni di micro e nanoparticelle. Tutte queste polveri, micro e nanopolveri, provocano la formazione di trombi. Noi li abbiamo dimostrato, li abbiamo fotografati questi trombi, li abbiamo dimostrato 16, 18, forse 20 anni fa. No, più di 20 anni fa, lo abbiamo dimostrato. Quindi siamo in una situazione in cui c'è un virus che forse è trombogenico, ma delle particelle che sono trombogeniche. Ma abbiamo di più. Abbiamo che in queste zone si sono vaccinate le persone, soprattutto le persone anziane, in una maniera assurda. Sono state vaccinate contro l'influenza. Nessuna zona d'Italia ha avuto altrettante vaccinazioni contro l'influenza. E noi abbiamo analizzato tanti vaccini contro l'influenza e sono in assoluto più sporchi, cioè più pieni di micro e nanopolveri, cioè più trombogenici. I più capaci di provocare la formazione di trombi. Ma c'è di più. Si è vaccinato contro la meningite, in una maniera folle, anche perché la gente non ha capito che cos'è la meningite e pensava di essere vaccinato contro la meningite, mentre era vaccinato contro alcune forme di meningite, poi con una efficacia che, insomma, stendiamo un velo pietoso. Ma anche quel vaccino, e noi li abbiamo analizzati, contengono particelle, quindi trombogenici. Ma c'è di più. Tutti i vaccini provocano delle infiammazioni. Perché devono provocare delle infiammazioni? Perché la reazione al vaccino deve essere una reazione infiammatoria. Quindi io ho che c'è una reazione infiammatoria sulla parete dei vasi. Una reazione infiammatoria sulla parete dei vasi provoca la formazione di trombi. Questo lo sappiamo dal 1857. Ce lo disse un tale, Rudolf Virchow. Tra il 1856 e il 1857 lui pubblica due lavori che raccontano di questa cosa. E nel 1865 un francese, che si chiamava Armand Rousseau, scopre questo tipo di trombosi, cioè di formazione di trombi, che nascono non in un punto specifico dei vasi, delle vene in questo caso, ma un po' dappertutto. E lui dice che è dovuto al cancro, che è vero, è vero. Lui però, ci sono tante forme di cancro che danno questa microembolia diffusa. Lui però non sapeva, perché non aveva i mezzi, non peraltro, non aveva i mezzi tecnici che abbiamo oggi, non sapeva che l'inquinamento dà esattamente lo stesso problema. Si chiama sindrome di Trousseau, prende il suo nome. Quindi noi siamo in una situazione, in questa zona, in cui c'è una forma infiammatoria dovuta al vaccino, una forma di trombogenesi dovuta al vaccino, e una forma di trombogenesi, trombogenesi vuol dire formazione del trombo, del coagulo di sangue, è una forma che forse è dovuta al virus, forse, questa è l'unica cosa di cui non abbiamo certezza, ma la diamo per accettabile, se non per accettata. Quindi, che cosa succede? Succede che si formano questi trombi, questi coaguli dentro al sangue, dentro il sangue venoso. Tutto il sangue venoso finisce ai polmoni, tutto indistintamente. Finisce nei polmoni tramite degli altri vasi che, per una bizzarria anatomica, vengono chiamati arterie, arterie polmonari, ma contengono sangue venoso. Quindi questi trombi sono andati a tappare questi vasi, che vuol dire che il sangue non arriva più ai polmoni. Se il sangue non arriva più ai polmoni, non riesce più a portare anidride carbonica da scaricare, da buttare fuori, e l'anidride carbonica è il residuo, è lo scarto del metabolismo cellulare, quindi non arriva più il sangue, quindi non può più essere depurato, ma non arriva più il sangue nemmeno per potersi caricare di ossigeno, che è quello che noi inspiriamo e mettiamo nei polmoni. Quindi è inutile che io somministri ossigeno, perché semplicemente non arriva il sangue per prenderlo e portarlo via. E questo ha comportato un dramma, perché questo eccesso di ossigeno nei polmoni ha bruciato i polmoni, ha ossidato i polmoni, li ha bruciati. Quindi ha ucciso questa povera popolazione. Questi poveri ricoverati sono stati uccisi da una terapia totalmente erronea, totalmente sbagliata. Che cosa si sarebbe dovuto fare? Una cosa banale, che sappiamo da tantissimi anni. Si sarebbe dovuto impedire la formazione dei trombi, e questo si può fare somministrando dell'eparina, che è un farmaco di origine naturale. Noi stessi la produciamo, ma in questo caso troppo poca. E l'eparina impedisce la formazione del trombo. Ma se il trombo è già formato, ed è già andato a fare l'embolo, che è andato a tappare il vaso, noi dobbiamo sciogliere quel tappo. E come si fa a sciogliere il tappo? Lo sappiamo da decenni, usando quelli che si chiamano attivatori del plasminogeno. Li produciamo anche noi. Si chiama per esempio urochinasi. Il nostro organismo lo produce, ma ne produce troppo poco in questo caso. Quindi si somministra urochinasi. Queste terapie si possono fare tranquillamente a casa, con pochi euro. Con poche decine di euro, probabilmente 20-30 euro, 50, si sarebbe risolto il problema a casa. Portare in ospedale queste persone aggrava la situazione. E l'aggrava semplicemente perché statisticamente noi abbiamo 135 morti al giorno. Queste sono statistiche dello Stato. L'ultima statistica è che sono 49.301 morti in un anno per delle malattie infettive contratte in ospedale. Questo significa che io vado in ospedale fondamentalmente sano, perché se vado per farmi l'operazione dell'appendicito o per farmi le tonsille sono sano, però esco morto perché mi sono preso una malattia infettiva in ospedale. 135 persone al giorno muoiono in ospedale per questo problema, ma molte di più si ammalano. Quindi se io porto una persona che già è in uno stato di salute critico, perché ha questo problema di tromboembolia polmonare, gli faccio una cura sbagliata perché gli somministro ossigeno, che è una cura addirittura deleteria, in più lo porto in un luogo in cui ho probabilità di ammalarmi, perché me lo dicono le statistiche, perché 135 persone al giorno muoiono di questo. Quindi io aggravo la situazione e l'ho aggravata, l'ho aggravata. In più ci sono tutti i dati falsi, che sono una caterva, un'infinità di dati falsi, perché chiunque sa, e io ho le testimonianze, che chi muore, chi è morto nel periodo cosiddetto del coronavirus, si è trovato nel certificato di morte che era morto di coronavirus, anche se era morto di infarto, di cancro, di diabete, di obesità, o di vecchiaia o di qualunque altro problema. Era sempre e comunque coronavirus. Sembrerà strano, ma nel periodo del coronavirus il cancro non era più mortale, non moriva più nessuno di cancro, di infarto non moriva più nessuno. Quindi qualcuno ha falsificato clamorosamente i dati. I dati che ci sono stati trasferiti attraverso i mezzi di comunicazione sono falsi, sono assolutamente falsi. Se noi andiamo a vedere poi i morti ufficialmente da coronavirus, vediamo che avevano tutti due, tre, quattro patologie gravi. Quindi una persona che ha un cancro o che ha tre patologie addirittura gravi, non è che possa pretendere poi di cavarsela, soprattutto se è trattato in quella maniera. In più c'è da dire che queste persone erano abbandonate. Tutti i ricoverati in quel periodo non potevano nemmeno avere la visita dei familiari. Quindi c'era anche un decadimento dell'umore e questo noi lo sappiamo almeno da 2500 anni. sappiamo che quando decade l'umore cadono anche le nostre difese immunitarie. Cioè cade la volontà e la possibilità e la capacità di vivere, di sopravvivere. Questo sicuramente ha influito.